Il mondo del lavoro è cambiato. Anche l'idea di successo. Tagliare un traguardo. Puntare in alto. Raggiungere gli obiettivi. Certo. Ma vuoi mettere farlo insieme a tutto il team? Anche la celebrazione sarà più grande. Il vero successo è quando i colleghi vogliono lavorare con te. Non quando devono. Quando i candidati trovano un progetto di vita migliore. Non solo una posizione migliore. Quando i clienti non ti stringono solo la mano, ma si mettono nelle tue mani. Quando l'azienda in cui lavori non solo ha sede in tutto il mondo, ma differenti scenari per valorizzare il tuo potenziale. Le qualità individuali incontrano quelle degli altri. Per crescere. Per completarsi. Per acquisire sempre nuovi strumenti. Non è solo performance, ma anche costanza. L'attenzione all'ambiente e l'inclusione diventano buone routine. Vita e lavoro si rispettano, si bilanciano e diventano l'asset che può segnare la svolta. Essere i migliori. In LHH tutti lavoriamo per essere persone migliori. LHH. La tua crescita. Il nostro successo.